Un nuovo strumento per potenziare la visibilità degli esercizi commerciali del centro di Teramo e ridare ulteriore linfa al cosiddetto centro commerciale naturale, ovvero l'insieme di vicoli e piazze dove sono incastonati i negozi. Si tratta del portale web Compra in Centro, è l'iniziativa messa in atto da ConfCommercio di Teramo grazie alla partnership con Euromind Advertising, la società di grafica e comunicazione amministrata da Carlo Miccoli, la società che ha ideato il sito www.compraincentro.com in modo da formare una rete di spazi autonomi riservati a partner commerciali che vogliono presentare i propri prodotti e servizi, favorendo l'integrazione tra enti, istituzioni, commercianti e clienti. Il centro storico è stato sempre per la ConfCommercio un punto di riferimento come lo è l'intero comune di Teramo, come anche la provincia di Teramo. Io credo che sia il momento di innovare, di modificare, e di gestire il modo di promuovere le varie attività imprenditoriali. Per i vantaggi in termini di visibilità e di informazioni che si possono dare e il costo estremamente contenuto, ci si aspetta un'adesione di tanti esercizi commerciali Teramani. E quindi questa, oltre ad essere un'iniziativa chiaramente di valore perché aprire un portale internet che apre le porte della città, quindi a tutti i rami commerciali e tutte le attività, facilitando anche delle connessioni direttamente da lontano, a chi può arrivare si può informare. Il collegamento che può avere qui l'amministrazione comunale è quello di interagire in quale maniera? Nella maniera in cui chi vuole arrivare a Teramo per fare degli acquisti per visitare la città può sapere già direttamente dove è un parcheggio, dove è ubicato, che tipo di strade. Quindi è facile del tutto, chi vuole partire arriva con già delle notizie certe.